Non so se c'è niente Non so se c'è niente Non so se c'è niente però Deve che fanno l'arpeggio e che fanno Eh sì C'è lo studio che è dentro C'è qua ma è pure qua Non è possibile? C'è qua E' pure fuori Oddio Com'è possibile? Fuori e dentro Ma che succede? Che succede? Siamo dentro e fuori guarda dentro e fuori Fuori e dentro E' pure la testa Oddio sei pure fuori Come? Com'è possibile che riflette E' sbatte di là Dove sbatte? Ma che messaggio L'obiettivo Si va bene ecco Ma lo urliamo sempre Dobbiamo smetterlo Dico ma quando ho l'intenzione di buttare il film C'è quando lo finiamo il film Sambo è domenica E niente siamo in studio E siamo pochino esaltati E siamo tanti emozionati Riguardo all'uscita Del film al cinema Che ancora Tra l'altro il film non è ancora pronto E manco soltanto Wow 17 giorni Non male Vero? 31 centesimi di dollari Buono 12 mesi di lavoro Per 31 fottuti Centesimi di dollari Ma sono col trainer Con la telecamera Con la telecamera in mano A fare riprese Di commenti inutili E come per i chef Soffriggere la cipolla Tipo tanto bello È passato il tempo Cipollare la soffritta Voi cosa ne pensate È la vittoria di Trappoldorn Alle elezioni di USA Non male Interessante Trappoldorn giusto? Sì sì Vero mezzo biondino Mezzo arancione Cosa pensate? È forte Può essere una grande svolta Per l'America Perché comunque ricordiamoci Che lui È un impenditore Quindi portare la ricchezza All'America Con ottime strategie di marketing Giusto? Maghi 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 Dei? Lui Che buone Maghi Dei Maghi Lui porterà ricchezza in America È bellissimo sto video Lui porterà ricchezza in America Ah 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 Che forse Ma forse ho disco Manca lì il giro è Ci sta cavato se no non giro Se no sta chiuso da piccolino Se no sta chiuso da piccolino No quello lo lascio Lo so qua lo lascio Lo so qua lo lascio Che sono Quello lì esatto Vai vai Cosa? Sposto di gentilmenza Una Stai facendo video pure tu No no Dobbiamo fare Una foto e metterla subito su facebook Ti muore all'istante A stillante Ciao 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 Ora stavo lavorando su After Effects Per migliorare alcune scene interne Stiamo disegnando la luce Siamo molto contenti Anche se non ancora Soltanto 13 giorni all'uscita del film Quindi mancavo solamente io La batteria è scarica ovviamente Quindi cicci Cut Cut Intenzione di dato Vabbè c'è la batteria Adesso gireremo con le scene Tipo che stiamo lavorando No? Siamo concentrati Per andare un po' più vero questo vlog Questo comunque di bordo Fala tipo un pochino più Eh sì sì Tante parole Un po' più amante ancora Un po' più amante ancora Un po' più disco Un po' più amante la scena non è Ok Bene bravo Esportiamo meglio Vai Salviamo meglio Vediamo Sempre il caso di salvare Ogni tanto quando si fanno questi lavori Questi longevi Scena 1 Post After Post After Post After Per After Film Sabe Prendi E niente Facciamo anche magari una prova filtri Giusto per renderci conto E niente Fa freddo Come vedete abbiamo i maioni natalizi E le sciarpe E i capelli E i capelli E le barbe Mi volevo portare il cappellino E niente Si lavora come al solito Sembra Stalio Sembra Stalio Chi? Lei Federico le chiami della 600 dove sono? Come uscire Comunque stiamo anche vendendo tanti biglietti E siamo molto contenti Io non pensavo Federico pensava ma io non pensavo E sono più che contento sono proprio Sbalordito Sbalordito Dalle richieste I miei Questi sono gli omaggi Abbiamo pure i bietti omaggi Non per i nostri amici però Questo è l'ultimo delle 22 Per chi ha lavorato È faticato L'ultimo due delle 20 Poi lo Ma devi renderizzare veloce compadre Ma devi accelà Ma devi accelà Che vuol dire buono Sto lavorando di zenith con tutta sta ram 4 giga liberi su 24 Stiamo usando 20 giga di ram Questo è brutto Che hai? Stari a cao d'antemano Astuciato Stai mi è gessato Che hai? Sono così Sento freddo Ho tutte le spalle Minchia siamo arrivati a 2000 Figlioli È allucinante sta cosa Non ci credo Allora pensate un po' Strabiliante La pagina ventissima Stata dal film È sempre stata povera di contenuti Pensate un po' Dal trailer Abbiamo guadagnato parecchi Parecchi Contenuti di fan intendi Ma di contenuti Vabbè sì Certo Di contenuti ci sono Contenutoni proprio Contenitori Ok è bastato fare il trailer di un film Per avere tanti Se quasi in più Siamo ben 2000 Quasi 2000 Quasi 2000 Saremo 2000 fra qualche giorno Non è male ecco Quando saremo 2000 Faremo un trailer di bordo Che stappiamo lo spumante Tipo Esatto Ci fa così E non è tipo Vero Minchia Questa qua che non ha niente Gli viene pesante Quelle la che hanno 10.000 livelli Le fa subito Perché sta La vedo fin qua a caricare No Qua che c'è niente Non ci hai fatto delle Due filtri ci sono No ma non l'ho potuto togliere Vero? Vabbè Dello stativo Dello stativo Freno Stringami Passami Passami l'argano Argano Mi piace cosa è l'argano Dobbiamo inventare uno strumento che si chiama argano Cioè esiste l'argano Però io lo inventavo per il videomaking Tipo l'argano della telecamera E' bello Cosa può essere Mi sono tipo E che cazzo Ah questo affetto ha mancato Mi fa stare malissimo Ne volete Ne volete Mi fa stare male Dai lo rocco Dai lo rocco Che ti sono? Sono 120 Lo capiamo la GoPro Però non lo possiamo usare perché Si è rotta la La carta Forte Farlo pure tu Mi raccoglieri tutti No no mi secco Mordello Ah minchia eh Il caos L'entropia altissima Exotropia Come al solito siamo al freddo e al gelo Da soli io e il mio compagno Federico Maio Questa stufa compagno però sta facendo il suo lavoro Questa stufa Sotto non lo faceva Questa stufa fa il suo lavoro Sotto fa più freddo compagno Questa stufa consuma 1000 watt al secondo Alla fine ci sta aiutando a sovravvivere in questo luogo dimenticato da dio Il suono del Della pace Di dio veramente questo Basta Tipo del prontatavola Perché questo biglietto Guarda che bella luce Che nel senso se io adesso prendo il progetto del film e lo metto tutto su fan al cazzo nuovo Provia e come facciamo se no? Ma mi fido tu ti fidi? C'è tanta gente che ci ama E non può fare a meno di stare con noi Questo purtroppo porta un problema ancora più grave Che non abbiamo il tempo Non abbiamo il tempo E non sapevo dire di no Di tipo state bagassa perché Quando è progetto il film vi chiamiamo E quindi vengono Vabbè Adesso esploriamo un nuovo Final Cut Che abbiamo comprato Ovviamente E niente continuiamo con il montaggio e a presto Ciao Non vale perché è così E allora Un vlog Un vlog No vlog no Stai lavorando Problemi E sui vari problemi che Che abbiamo ascoltato nel film Ma la sciarpa dov'è? Problemi normali perché siamo giovani e squattrignatri Squattrignatri Secondo che è un po' di tempo che provo a fare i vlog Ma dico che sono minchiate Non lo passiamo in sciarpa Tieni Dico le mani finte Ci stiamo ammalando a presto al film C'è male una presto al film Tipo uno Si vuole sedere Sul divano Non può perché è occupato da Un caos Il caos tipo di tessuti Non avendo appendiabili ci rimediamo A usare Il divano come appendiabili appunto Che fanno anche da Scoperte, cuscini e cose varie Quando uno ti volesse pregare Esattamente Perché se vedete che noi dormiamo Manca poco Perché noi dormiamo in studio Pochissimo manca Dobbiamo attrezzarci per mangiare invece Per mangiare si vero Prima a mangiare poi a dormire Prima a mangiare poi a dormire Se vuoi cerco a mangiare Se tu ti paga animali Pia a mangiare e puoi dormire In mezzo ci deve fare un'altra cosa però Quanto si può fare? Ecco da ieri ad oggi non ho capito proprio niente Se non che siamo un po' più stanchi E un po' più Niente, è martedì Quindi ieri è lunedì e oggi è martedì Siccome questo video ci manca la covina al sale Quindi siccome siamo anche dei maghi di Photoshop e del fotoritocco Andiamo a realizzare Un pavimento Per una scena Per una scena Siamo dei maghi, no? Il fotoritoccio Allora questo è l'inizio Iniziamo da qui Sì Ci hai mai pensato? Al matrimonio Sì Carmela ti voglio credere Per un po' più E' un po' più A meno E' un po' più E' un po' più E' un po' più Per un po' più